presentiamo questa sera il libro di Emanuele Pantla rivincita delle teste di legno è un libro in una cornice scolastica e parla del teatro, parla delle marionette e insieme a lui questa sera faremo un atto d'amore al teatro un libro in una cornice scolastica un libro in una cornice scolastica un libro in una cornice scolastica